Due gol nell'amichevole di Vasto, gol nell'amichevole contro il Cerignola, gol questa sera, certo c'è stata la compartecipazione del portiere, però te lo sei andato a cercare, almeno ti sei accentrato bene e provato la conclusione. Sì, no, sono stato abbastanza fortunato, però questo non vuol dire che abbiamo fatto chissà che, ancora siamo all'inizio e dobbiamo continuare così. C'è un proverbio che dice se il buongiorno si vede dal mattino, puntini puntini. Ma noi, come ho detto prima, dobbiamo continuare così, dobbiamo allenarci e migliorarci soprattutto, poi sicuramente i risultati verranno. Su un'occasione del gol del pareggio, forse l'unica disattenzione? Sì, sì, dal lato ci può anche stare, però contro queste squadre è difficile, bisogna dare merito anche alla Ternale, che comunque è una bella squadra. Comunque abbiamo reagito bene e abbiamo portato i tre punti a casa. Bentivegna, tu lo scorso anno hai iniziato il campionato con la Juve Stabia, poi la Juve Stabia quel campionato lo ha vinto. Vedi qualche similitudine tra le piazze? Presto per parlare tecnicamente, io intendo tra le piazze. Sì, sì, no, ancora è presto, ancora è presto. Noi dobbiamo partire dal gruppo. Secondo me se c'è il gruppo possiamo andare veramente lontano. Grazie. 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 Grazie.